Devo dire che è organizzatissimo, peraltro mi danno dei numeri molto interessanti perché sono riuscito a raggiungere e a superare anche il migliaio di dosi nei giorni scorsi. Oggi è una giornata dedicata a San Francesco per cui si suppone che stasera entro la mezzanotte riusciranno non solo a completare tutte le dosi di vaccino che sono a disposizione ma appunto a mettere su un'organizzazione ormai collaudata che già da domani possa continuare a fare lo stesso numero di dosi tanto che probabilmente nei prossimi giorni riusciamo a coprire tutta la popolazione non solo paolana ma anche della zona. Sono molto contento di come stia andando questa campagna vaccinale, questi quattro giorni speciali di vaccinazione stanno dando grandissimi risultati il numero di vaccini auspicabile viene superato ogni giorno da più di due o trecento dosi quindi la nostra campagna vaccinale sta andando avanti a prescindere dai posti in classifica la cosa più importante è che tanti vaccini riceviamo e tanti vaccini riusciamo finalmente a fare. La Calabria si rialza e oggi che è giornata dedicata a San Francesco di Paola è una giornata speciale perché simbolicamente San Francesco è roccia e piuma perché vola sulle acque, sulle onde dello stretto di Messina ma è la roccia dentro la quale aveva deciso di vivere proprio e costruire il proprio eremo quindi grande forza e soprattutto anche grande agilità, quello sono i calabresi, quello stanno dimostrando di essere.